e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi come vi ho detto settimana scorsa volevo seguire un po' con voi il black friday per andare a scovare magari delle offerte che possano interessare a noi motociclisti infatti magari voglio vedere un po' se c'è qualcosa di abbigliamento oppure comunque riguardante non so navigatori quelle cose lì magari si può riuscire a trovare qualcosa in offerta anche per noi motociclisti la mia idea era quella di fare delle live però visto che la connessione quando piove io ho l'income quando piove è un po' scadente e sta piovendo da un mese ormai quindi ho deciso di aprire un canale telegram dove vi linkerò appunto le offerte che troverò su amazon sperando che vi possano interessare io vi ringrazio già se deciderete di acquistare visto che darete una mano al canale a crescere senza spendere niente in più io comunque cerco di fare un servizio se vi può interessare e niente visto che a me piace un po' guardare su amazon visto che faccio parecchi acquisti su amazon e niente quindi questo canale telegram poi resterà anche dopo il black friday magari vi linkerò ogni tanto qualche offerta e poi quando arriverà la bella stagione magari organizzerò qualche qualche motogiro per chi vuole partecipare e se andrà a fare qualche giretto magari insieme con voi iscritti quindi e se non siete iscritti appunto iscrivetevi al canale che ragazzi l'anno prossimo si va a capo nord qui inizio magari a farvi vedere già qualche offerta che c'è che ho già visto e qua siamo già sulla pagina delle offerte del black friday vado su automoto e già ho addocchiato questi mantenitori caricatori di batterie che in questo periodo per chi tiene la moto ferma possono magari interessare qua ci sono sono delle offerte a tempo 15 20 euro prezzo mi sembra onesto e niente vedete comunque ci sono varie cose qua vedete te lo copri moto quindi sempre visto che adesso arriva l'inverno molti fermano le moto siete lì che copri moto che i mantenitori possono sempre servire poi io volevo farvi vedere una bella cosa che mi interessava anche a me che la DJI Osmo Action che l'ho trovata a un prezzo davvero interessante a 279 euro quando di solito supera i 300 euro quindi io ci farei in più qua c'è su risparmio a 13 euro 14 euro al check out quindi vuol dire che mi sa che dal 279 si può risparmiare ancora 14 euro al check out in più inoltre vedete qua c'è ad esempio il DJI Osmo Action Osmo Pocket che uso anch'io che uso anch'io che io vi consiglio se vi va di acquistarlo da usare in moto praticamente non si può usare si potrebbe anche usare però un po' ingombrante io ve lo sconsiglio da usare in moto però io quando registro giù dalla moto uso questo e lo userò credo anche per le foto visto che fa delle buone foto e poi niente vi ricordo inoltre che nel Black Friday sono qua sulla pagina dell'Osmo Pocket sui prodotti warehouse di Amazon ovvero i prodotti usati c'è il 20% di sconto ulteriore da quello che c'è già infatti da 260 euro in pratica togliete il 20% e quello lì sarà il vostro prezzo e niente ragazzi io spero che vi possa interessare questo canale Telegram che ho creato per seguire questo Black Friday comunque resterà attivo il canale Telegram come vi ripeto per organizzare magari dei motogiri insieme e niente ragazzi io vi saluto qua vi ringrazio di aver seguito anche questo video vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram e alla prossima ciao ciao